Allora vi parlo un po' di questi funghi. Il fungo del genere Morchella, è un fungo che si può trovare all'inizio della primavera nei boschi di Frassino e dove, notaggio con queste piante, frassini, noccioli, con il terreno anche sabbioso e abbastanza umido. Un po' che predilige gli ambienti umidi, però quest'anno le abbiamo trovate prevalentemente sul secco perché non ha piovuto tantissimo. Però due giorni fa ha fatto una bella piovuta e adesso gli esemplari che erano nel sottobosco stanno cominciando a crescere molto rapidamente e in maniera molto grande. Quindi sono molto più grandi. Prima le trovavamo abbastanza piccole perché erano in carenza d'acqua. Adesso però, come potete vedere, gli esemplari che abbiamo trovato in questa posizione sono molto belli. Lo che potete prendere quando trovate questi funghi è di guardare molto bene intorno perché sono gregari e crescono in gruppo. Quindi non fatevi prendere dalla foga nel cercarli perché potete pestarli. Quindi cercate di guardare bene nell'ambiente sottostante perché ci possono essere svariati esemplari. Infatti in questo punto ne possiamo contare quasi più di 12. Ciao, alla prossima puntata!